retribuzione oraria retribuzione giornaliera queste sono informazioni utili per calcolare le maggiorazioni e le indennità di colfe badanti per calcolare le indennità e le maggiorazioni dei lavoratori di domestici è necessario sapere come calcolare la paga oraria e quella giornaliera e quella mensile naturalmente la paga giornaliera sarebbe facilmente calcolabile moltiplicando la paga oraria per il numero di ore quotidiane ma per il calcolo di maggiorazione indennità è necessario il valore medio che si ottiene da alcuni semplici calcoli lavoratori che ricevono uno stipendio fisso mensile retribuzione oraria uguale retribuzione annuale 12 mensili diviso per 52 settimane diviso per numero ore settimanali si ottiene l'attribuzione di un'ora di lavoro retribuzione giornaliera uguale un 26 esimo della retribuzione mensile mensile diviso 26 due lavoratori che ricevono una paga oraria retribuzione giornaliera uguale paga oraria moltiplicata per ore settimanali per 52 settimane diviso 12 diviso 26 giorni lavorativi retribuzione mensile uguale paga oraria moltiplicata per ore settimanali per 52 settimane diviso 12 mesi questi calcoli vi servono per poter calcolare in modo corretto eventuali straordinari o indennità